Musica Esplode l'emergenza idrica in Irpinia, ma quali sono le cause e ci sono possibili soluzioni? Lo chiediamo all'esperto Sabino Aquino, idrogeologo, siamo nel cuore del problema o della opportunità, nel cuore dei Picentini, alle nostre spalle la cascata del barco della Spina, il fiume Calore, uno degli acquedotti più importanti, una delle sorgenti più importanti per i nostri acquedotti. Da cosa scaturisce l'emergenza idrica? Tre sono le cause fondamentali che hanno portato in questo stato di disagio. La prima, la mancata attuazione di interventi da parte dell'ente gestore nel periodo autunnale ed infernale per mancanza di finanziamenti, da interventi che risultavano determinanti oggi. La seconda è l'abbandono di alcuni corpi idrici, mi riferisco alla Solofrana che ha visto l'inquinamento da tetraglore di lene di alcuni pozzi messi fuori esercizio. E la terza è connessa a fattori climatologici che hanno portato a una mancata ricarica degli acquiferi e a un repentino abbassamento delle portate basali. Aspettando la pioggia ci sono delle soluzioni possibili nell'immediato? Sì, oggi non andrei direttamente a grossi quantitativi di acqua che pure l'Irpinia deve avere. Io per Cassano, che è l'unico sistema di attingimento in grado di mettere subito acqua in acquedotto, punterei intorno ai 100 litri che è la portata che può attualmente immettersi in acquedotto. Poi, sicuramente, ma lo stanno già facendo, rimetterei in funzione i pozzi di Montoro, sempre con le dovute cautele perché sono affetti da inquinamento, anche se è un leggero inquinamento. E poi la terza è quella, punterei anche sull'acquedotto di Napoli che non ne parla mai nessuno, ma forse non tutti sanno che l'Alto Cadore oggi riceve dall'acquedotto di Napoli per l'integrazione degli schemi del Partenio 100 litri di acqua e li deve pagare. Questo è veramente inaccettabile, quei soldini potrebbero andare al rifacimento delle perdite e anche ai sistemi di adduzione. Nel lungo periodo, invece, c'è bisogno probabilmente di un accordo di programma. Che cosa deve prevedere? I punti essenziali? E chi lo deve fare? Allora, lo Stato deve intervenire con un accordo di programma tra le regioni. In questa fase l'Irpinia deve sapere una volta per sempre qual è la liquada idrica disponibile per il suo sistema di adduzione. In questa ottica, la Galleria Pavoncelli, in fase autorizzativa, prevedeva proprio questo accordo di programma. Per cui, prima che venga terminata l'opera, questo accordo di programma deve portare un po' questa rivisitazione delle concessioni. Io metterei in questo accordo di programma anche l'invaso di Consa, che può rappresentare una riserva integrativa per l'Alta Irpinia, sganciandola da Cassano. E metterei anche in discussione l'Acquedotto di Napoli senza il ristoro, che attualmente l'Alta Irpinia è versa. In più, ci devono essere anche delle opere di rifacimento degli acquedotti, quelle più fariscenti, quelle che si trovano praticamente in terreni instabili, che mettono in discussione continuamente il previsionamento idrico. Ed infine io penserei anche a delle opere emergenziali attraverso dei pozzi da realizzare in zone ad hoc che esistono in Irpinia. Questo perché, senza essere condizionati da fattori climatologici, quando si abbassano le portate sorgive, noi andiamo a sfruttare le riserve occulte, però con intelligenza, senza il sovrasciuttamento. E queste opere devono essere localizzate in punti nevralgici degli acquedotti, di modo che possono subentrare all'occorrenza. Chi deve fare tutto questo, Quino? Ma guarda, sono anni che diciamo sempre le stesse cose. La risposta per me è semplice. Queste cose le deve fare la buona politica, che deve praticamente essere supportata da professionalità e competenze del settore. La risposta per me è semplice.